Si è svolto sabato scorso a Palazzo Badini la seconda fase dell'Iter per la redazione del nuovo piano regolatore. L'obiettivo è rappresentare le linee guida e i progettisti nell'ambito di Pordenone più facile. È stata sicuramente un'occasione importante. Per più di un'ora i professionisti hanno raccontato modalità e possibilità di intervento per cambiare la nostra città, intervenendo proprio con sistemi innovativi su quello che è il costruito. E tutto questo racconto ognuno di noi lo potrà trovare nella pagina di Pordenone più facile all'interno del sito. Infatti si troverà la registrazione di tutto ciò che è avvenuto durante la mattinata. Questo è un modo di lavorare. C'erano i cittadini che hanno partecipato, chi c'è stato a Pordenone più facile e come il solito, con la solita trasparenza, tutti hanno avuto possibilità di raccontare, di pensare, e di dire quelle che sono le loro modalità di visione della città, ma soprattutto di capire quelli che saranno gli indirizzi sui quali noi vogliamo intraprendere la nostra azione. Ovvero una città che si rinnova partendo da ciò che ha, che diventa promotrice di se stessa e che non si siede sulle difficoltà che ora stiamo vivendo, ma che lavora in un'ottica di prospettiva e di sviluppo, perché questo deve essere il nostro futuro per noi e per i nostri cittadini.